Si è tenuta anche a Campobasso l'iniziativa Nonno Ascoltemi, l'ospedale in piazza patrocinata dal Ministero della Salute per la giornata mondiale dell'udito. In piazza municipio medici specialisti hanno dato consigli ed effettuato visite gratuite a chi si è presentato agli stand. Piano piano riprendiamo un'attività di diagnosi e di prevenzione, nel caso specifico dei disturbi dell'udito, che sono prevalenti, sono molto frequenti. Si ritiene, secondo alcuni studi, che il 18% della popolazione sia affetta da disturbi dell'udito. Però di questi solo una parte minima di persone ha un trattamento che tra le varie forme prevede anche la protetizzazione, c'è la possibilità di un recupero che grazie agli avanzamenti tecnologici è sempre più ottimale perché siamo passati da protesi di tipo analogico tradizionali in cui praticamente aveva solo un'amplificazione e adesso via via a protesi digitali che sono dei veri e propri microcomputer. Ad organizzare l'evento a Campobasso, la MAICO. Il nostro lavoro si svolge attraverso un colloquio preliminare e attraverso una valutazione della visita, della prescrizione eseguita dal medico prescrittore o Torino. Durante questo colloquio preliminare si valuta sia fisicamente, quindi sulla base sanitaria, su una base medica, la necessità della persona, sia si valuta la possibilità di personalizzare nella maniera più assoluta la soluzione acustica. Quindi avviene una sorta proprio di personalizzazione. A tale proposito aggiungo che è questa la strada da seguire proprio per evitare che ci siano difficoltà nell'approccio e nell'applicazione dell'apparecchio acustico. Per cui tante volte nel passato il luogo comune era che l'apparecchio acustico fischiava, che l'apparecchio acustico potesse essere ingombrante, potesse essere fastidioso. Invece è bene sapere che oggi gli apparecchi acustici sono il più discreti possibile.